Il futuro delle pensioni e il reddito di cittadinanza. Quali sono le prospettive per questa crisi delle pensioni e questo nuovo sistema che bisognerà creare per garantire un futuro alle future generazioni? Io partirei dicendo che lo Stato italiano è fortemente indebitato e quindi non ha soldi da spendere. Questo ovviamente implica che i margini di manovra non sono poi così ampi. Che cosa fare? L'idea di Beppe Grillo di un reddito minimo garantito che è tornata in auge in campagna elettorale è molto interessante. Bisogna trovare però le coperture. Quindi come si finanzia? L'esempio più interessante che abbiamo in Europa di recente ed è stato fatto da un governo di destra, quindi dal governo Sarkozy, è una sorta di reddito di inserimento che non vuol dire reddito di cittadinanza ma che vuol dire un sussidio a chi percepisce dei redditi troppo bassi. Questo naturalmente implica una ricerca da parte del soggetto che percepisce questo sussidio di un lavoro attivamente e da parte dello Stato l'attivazione di tutta una serie di politiche di accompagnamento. Discorso pensioni? Bisogna vedere quando finiscono i soldi. L'Inps ha una dotazione patrimoniale che in teoria ci consente di pensare a lungo termine con una certa sicurezza però ovviamente per le future generazioni non è detto che la pensione è intesa come è intesa adesso anche dal punto di vista culturale quindi come sostanzialmente un premio per aver lavorato sarà tale anche in futuro. Io ritengo che sostanzialmente la pensione è il metodo soprattutto contributivo quindi non il metodo retributivo. Quindi io ottengo poi dopo una volta raggiunti i requisiti di età in proporzione a ciò che ho versato penso che sia la strada da seguire in un contesto di risorse assolutamente scarse in un contesto dove il debito pubblico italiano è al 127% del PIL. Il blocco delle pensioni che superano i 3.000 euro è paliativo o risorsa per l'Italia? No, secondo me è un palliativo. Io sono abbastanza scettico su questa misura. Secondo me molto più utile ma infinitamente più utile per quanto un governo di larga intese possa farlo è la riduzione del cuneo fiscale quindi più soldi in busta paga e magari un po' di incremento della cultura della previdenza integrativa. Ci sono un sacco di strumenti a partire dalle assicurazioni che possono incrementare poi dopo quello che si guadagna una volta andati in pensione che però in Italia sono ancora scarsamente utilizzati. Precarietà del lavoro e pensione integrativa. Quali potrebbero essere le misure che il governo potrebbe attuare affinché ci sia un aumento di questo strumento? Allora, una su tutte, eliminare i vari contratti a progetto, CoCoCo, CoCoPro e quant'altro. O c'è un contratto part-time o si fa il contratto a tempo indeterminato. Per fare il contratto a tempo indeterminato per tutti come contratto di ingresso, come avviene in moltissimi paesi, pensiamo per esempio all'Inghilterra, bisogna, come dicevo prima, ridurre il cuneo fiscale. Cioè questo è l'unico incentivo possibile per chi poi dà lavoro e quindi per gli imprenditori, quegli imprenditori onesti che non evadono e che non portano i soldi all'estero per assumere in un momento di estrema difficoltà del mercato interno. Io credo che questa sia una misura che il governo Letta debba mettere in cima alla lista. Si parte con un contratto a tempo indeterminato. Le forme di flessibilità in Italia, che pure ci sono negli altri paesi, si sono accompagnate troppo spesso con dei redditi troppo bassi, dei redditi che sono al di sotto della soglia di povertà. E questo chiaramente crea anche, diciamo così dal punto di vista culturale, un'incertezza e dal punto di vista sociale un'incertezza che non consente ai trentenni di oggi di guardare al futuro con la giusta fiducia. Questo è un danno enorme secondo me per il paese. Reddito di cittadinanza potrebbe essere un ulteriore strumento con cui il governo continua ad agevolare uno stato assistenzialista e non delle dinamiche di incentivi e quindi delle politiche di incentivi, di politiche attive del lavoro. Sì, a me personalmente non piace molto il reddito di cittadinanza. C'è una bella analisi del professor Roberto Perotti e del professor Tito Boeri sulla voce in cui due economisti fanno una provocazione, dicono sostanzialmente, in Italia il reddito di cittadinanza, come dire, a pioggia, beneficerebbe anche i figli di Berlusconi e l'Apoilcan. Ovviamente così non può essere, però è altrettanto vero che è necessario in molti casi uno strumento di aiuto alle persone che percepiscono un reddito inferiore alla media. Bisogna farlo, però bisogna anche controllare molto bene. Il senatore Icchino, senatore di Scelta Civica, in una recente intervista ha proprio detto questo, ha detto benvenga, però uno con degli strumenti di inserimento attivo e quindi da parte delle regioni e degli enti territoriali un forte sforzo per reinserire i lavoratori che hanno perso il lavoro piuttosto che i lavoratori part-time o comunque che hanno dei contratti a progetto o a termine e due, un forte controllo perché se no succede come la cassa integrazione in deroga o comunque la cassa integrazione in cui io da cassa integrato mi faccio il mio lavoretto in nero e percepisco un doppio stipendio. Questo non è giusto. Quindi la riqualificazione professionale avrà un ruolo strategico per fare in modo che si esca dallo strumento di sussidiarietà o comunque del reddito di cittadinanza se verrà attuato. Secondo me sì. Secondo me sì è fondamentale dotare le risorse che siano certe anche da parte delle tasse dei cittadini. Io personalmente, insomma, per quanto non mi piaccia troppo pagare le tasse ma sarei ben contento di pagare l'1% in più se avessi la certezza matematica che questo 1% andrebbe a finanziare delle politiche di reinserimento di giovani che magari sono precari. Però ci deve essere assoluta certezza che è la cosa che manca in Italia ed è la cosa che fa allontanare gli investitori esteri dal nostro paese.